bello a tutti ragazzi oggi siamo su un nuovo gioco bene sì lo so stamattina ho fatto un video cucina ma lasciate stare i dettagli bene start puoi giocare un gioco ti piacciono i giochi no grazie mi fai paura mi fai paura va bene e il filo rosso non vediamo non credo che sia un filo ma vediamo wow davvero è così guardate che contento so che queste pillole non fanno bene vediamo si è vero è vero si sta piacendo questo beh c'è una chiave no non è che non è che non è che mi entusiasmo tanto visto il livello è che so no non ci penserei mai beh i dubbi no Go come oh un cappello oh un cappello kieno wow non mi ha aspettato questo da vero Eh, lo sapevo, lo sapevo. Sto gioco una drollata. Sto infatti, si chiama Trofix Quest. Indigeno! Ok. Oh, apri solo! Per caso di questo, subito indigeno. Ma ora chi è che scappa? Ma ora chi è? Vai. No. Boh. La spada? Vediamo. Oh, scusatemi che ce la sapete, c'è il computer un po'... Non so come dire. Martino, ammassato. Cos'è questo? E' un ammasso in culo. Ti infilzerei. Ti vorrei infilzare tanto, stronza. Ambo galambo. Ambo galambo. Che cosa? Un ratto? E cosa sarebbe? E basta. Ambo galambo. Ma cosa la vuole fare? Un pupaccio di neve? E... Boh, continuiamo. Ah, 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 le armi. Ah, 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 le armi. Cosa è quello a fare? E' un filo? Un po' suono. Un po' suono. No. E' un po' suono. Ma cosa succede qualcosa?